Continuano a verificarsi truffe e danni di cittadini, spesso a cadere nella trappola dei malviventi, sono persone anziane. Comincia con un'innocua telefonata e finisce facendo perdere migliaia di euro ad alcune vittime. La truffa del falso nipote è nota da molti anni ed è ancora una di quelle più utilizzate dai criminali. Nel fine settimana una donna di 70 anni ha dato a due malviventi circa 2.000 euro. Come riporta il quotidiano online Voce di strada, le indagini dei carabinieri sono in corso per risalire ai due malfattori. Da quanto ha raccontato la settantenne si trovava da sola in casa quando sono arrivati presso la sua abitazione due uomini. Alla donna hanno raccontato che il figlio aveva un debito con loro di circa 5.000 euro e che lo stesso aveva assicurato loro che avrebbero potuto ritirare i soldi dalla madre. Andate da mia madre che vi darà una buona parte dei soldi, avrebbe detto il figlio. Quando la signora ha sentito che il figlio aveva problemi ha tentato di contattarlo telefonicamente. A quanto sembra i malviventi con un marchigegno sarebbero riusciti a deviare la telefonata e dall'altro capo del telefono ha risposto un complice dichiarando di essere il figlio che la avrebbe rassicurata dicendole di consegnare i soldi. La vittima della truffa in casa aveva solo 2.000 euro, li ha recuperati e consegnati ai truffatori. Erano due uomini, uno è entrato in casa e l'altro aspettava in macchina all'esterno. L'uomo si è preso i soldi dicendo che per il resto se la sarebbe vista con il figlio, ha ringraziato e si è allontanato con il complice. Purtroppo la settantenne si è resa conto di essere stata vittima di una truffa solo quando ha avuto modo di parlare con il figlio. Anche nella città di Agropoli sono diverse le segnalazioni di cittadini che nelle ultime settimane stanno ricevendo delle telefonate dai ignoti truffatori. Il consiglio è sempre lo stesso, soprattutto alle persone anziane. Siate sospettosi se vi viene chiesto di indovinare chi sia il chiamante. Al telefono non rivelate alcun dettaglio sulla vostra situazione familiare e finanziaria. Dopo aver ricevuto una telefonata con una richiesta di denaro, consultatevi sempre con la vostra famiglia. Non date mai denaro, gioielli ad estranei, non trasferite mai denaro su un conto sconosciuto ed infine informate immediatamente la polizia o i carabinieri se ricevete una chiamata che vi sembra sospetta.